Nel video della tragedia Oscar Del Do è quel puntino che sale in cielo prima dell'impatto e delle fiamme, eiezione con paracadute secondo la procedura nei pochi istanti in cui ha capito che non avrebbe potuto tenere in assetto il suo jet a causa dello stormo di uccelli entrato nei motori. Ha evitato che il Pony 4 delle frecce tricolori impattasse sul centro abitato ma non ha impedito che la tragedia si consumasse. Ho dovuto lanciarmi o sarei morto, ha detto, non ho visto quell'auto. L'auto nella quale viaggiava la famiglia Aurigliasso. Laura, morta a 5 anni tra le fiamme, nel seggiolino, il fratellino Andrea, di 12 anni, la mamma Veronica, 41, in gravi condizioni e il papà Paolo, 49 anni, le mani bruciate per aver tentato di salvare la piccola. Il maggiore Del Do, 35enne friulano di Torreano di Martignacco, nelle frecce tricolori dal 2020, viene sentito in queste ore dagli inquirenti che hanno aperto un'inchiesta, un pilota esperto con oltre 2000 ore di attività alle spalle che proviene dal 132esimo gruppo del 51esimo stormo di Strana. Ricordato come un ragazzo in gamba, serio, preparato, preciso e molto meticoloso, che si era impegnato tanto per riuscire a realizzare il suo sogno di entrare nelle frecce. Secondo gli esperti ha cercato in tutti i modi di tenere in cassetto l'aereo, riuscendo a eseguire la manovra di aiezione poco prima dell'impatto, ha fatto quello che doveva essere fatto, ma questo non cancella la tragedia che ora insanguina il simbolo più amato dell'aeronautica militare. L'ultimo spettacolo in Veneto, l'Air Show di Jesolo, con la folla festante e l'intitolazione di un accesso al mare proprio alla pattuglia acrobatica. E poi, nei mesi scorsi, il passaggio suggestivo su Venezia o le evoluzioni in aprile, proprio al 51esimo stormo di Strana. Un cordoglio unanime che arriva anche dalle istituzioni. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini anche all'aeronautica, perché sta vivendo anch'essa una tragedia grandissima al pilota e a tutti quelli che ogni giorno, forze dell'ordine, militari, si impegnano per servire questa nazione. È una cosa che non vorremmo mai dover commentare, né vedere né dover commentare, però credo che ad oggi il sentimento più grande di tutti sia solo il cordoglio e anche la forte vicinanza alla famiglia di quella bimba che io faccio fatica veramente a commentare.